buongiorno buongiorno dal dottore claudio serracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale oggi ragazzi parlerò risponderò ad una signora che mi parla di ipocrisia di ipocrisia falsità della gente che non la sopporta più che non ama più la gente falsa come si può fare per uscirse che non ama chi è falso che ipocrita bene io le ho consigliato naturalmente di rivolgersi ad un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola che abbia già affrontato i casi di come il suo perché al momento sospeso le sessioni online di posti cs vera e professionale oppure scaricarsi un audio mp3 di cs che può fare al caso suo o al caso del suo caro della sua cara che magari hanno questo problema cioè l'insofferenza o la sofferenza chiamiamola come vogliamo verso la gente ipocrita verso la gente falsa che davanti si comporta in un modo da santo e dietro le spalle si comporta da diavolo e naturalmente la persona che riceve questa ipocrisia va oltre il comune sentire si sente molto ma molto male come ad esempio si può scaricare l'audio mp3 di cs dal titolo no stress oppure eco entusiasmo che ti rendi immune oppure no passato negativo eccetera eccetera che ti rendi immune da tutte le cattiverie da tutto lo stress causato da ipocrisia da falsità della gente da gentaglia a dir poco che con il potere della tua mente che dio ci ha dato per trovare la soluzione ma se nessuno ci ha spiegato come fare ecco il problema della società di oggi per cui ragazzi se voi se te ti trovi nella stessa situazione e vuoi eliminare la sofferenza causata dalla gente ipocrita che ti circonda e che non accetti e non sopporti più scaricati questi audio oppure l'audio che può fare per te e liberati finalmente dalle catene del giudizio dalla 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 gente che ipocrita perché tu percepisci questo male ma se tu convinci il tuo subcosciente che non esiste che non ti può fare male che sei indifferente fidati che non ti fanno nessun effetto sembra un'assurdità ma è così te lo posso garantire perché è chi l'ho vissuto e quando mi auto ipnotizzo come in questo momento mi scivola tutto addosso altrimenti una persona normale deve avere un pelo così spesso così tre dita per sopportare un po tutta la mierda se dicono in spagna che ci circonda io conosco molta gente che si arrabbia che si offende perché vede gente che parla bene davanti e male e bene davanti e male dietro per cui fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube per favore benessere ipnosi soluzioni di cesso il dottore claudio saracino e fashion condividi con amici e parenti perché può essere quel qui da quella molla che può cambiare radicalmente la vita anche con un solo audio mp3 di cesso è molto potente naturale senza nessunissimo effetto collaterale trattasi di parola d'arte ad hoc con quasi un secolo di esperienza di un antico sapere che proviene direttamente lo seggio sbevi rills e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesso il dottor caldo saracino un bacio un abbraccio